Una notizia molto triste per cominciare, è appena arrivato, mia appena arrivata, è morto Pietro Pastorini, uno dei grandi padri della marcia all'interno dell'atletica italiana, l'uomo di Quartogiaro dove tanti ragazzi ha portato a marciare, l'allenatore di Michele Didoni, di Gianni Perricelli, di tanti e di tante altre, 87 anni, una passione infinita, ha raggiunto la sua Maria che morta lei un po' si è lasciato andare. Ciao Pietro!